Mi vengono in mente le parole adesso dello staff, perché il mio staff sono arrivati tutti e quattro a dirmi ce la meritavamo, nel senso che avevamo bisogno di una partita così, perché abbiamo lavorato tanto, tantissimo, abbiamo preso qualche vittoria, qualche sconfitta, e quindi c'era con molta calma, con le facce di chi deve tenere la barra dritta e continuare come non fa una differenza a una partita persa, ma in un certo modo da vita, però anche il fatto di inanellare due o tre settimane di lavoro in cui cerchiamo di fortificarci, di capire quali sono le cose da migliorare, di mettere a puntellare il nostro gioco e oggi eseguiamo una buona partita, un buon piano, un ordine, un'attenzione alle cose, anche perché gli avversari sono di qualità, per cui ti possono anche loro punire. Siamo partiti molto bene, cercando di aprire tutto il campo, cercando di avere delle scelte precise e difensive e ci siamo resi conto anche nell'intervallo che molti dei canestri che avevamo subito, per darci forza, perché abbiamo bisogno, perché sappiamo che noi possiamo avere dei momenti bui, magari corti, ma bui. Stavamo subito dei canestri dai nostri errori, dalla nostra fretta, dovevamo giocare la palla sempre, anche se vi rendevo conto che ogni tanto potessero vedere degli spazi. Quindi quando tiravamo frettolosamente subivamo, quando non muovevamo a sufficienza la palla subivamo. Seconda cosa è taglia fuori, molto spesso abbiamo subito qualche rimbalzo. Quindi quando vai nell'intervallo, magari che ti senti bene o comunque che stai seguendo un percorso, un piano e hai due punti focali, riesci a metterli bene in campo. E bene anche la seconda unità, perché dopo il secondo tempo, pardon, le Ocandi sono cresciuti, riuscendo a mantenere un pochino il livello che avevano segnato precedentemente, Johnson Odom, Fontecchio, prendono un po' il campo. Quindi in generale, detto questo, lo dico come la settimana scorsa, quando però ho dovuto commentare il fatto che in quei cinque minuti non eravamo riusciti a tenere il campo per provare a vincere, questa volta commento che ci siamo riusciti e abbiamo vinto, ma abbiamo tanto lavoro da fare e qualche sicurezza queste partite ce la deve dare, perché sappiamo bene che durante la settimana abbiamo fatto un ottimo lavoro.